il romanzo moderno così come lo conosciamo oggi nasce e si afferma nel settecento in realtà il romanzo è un genere molto antico e di opere che rientrano in questa categoria se ne incontrano ben prima del settecento pensiamo al filocolo di boccaccio il primo romanzo avventuroso della letteratura italiana scritto in prosa e in volgare alla vita di garcantois e pantagruel una serie di cinque romanzi scritti dal francese françois rablais nella prima metà del cinquecento e al don quixote di cervantes agli inizi del seicento qual è la differenza tra le opere che abbiamo citato e il romanzo moderno sono anch'essi romanzi ma il mondo di cui parlano non è quello che i lettori conoscevano per esperienza è un mondo immaginario popolato di giganti cavalieri fate eroi di personaggi dotati di qualità straordinarie e in genere di alto rango o che aspirano a diventare tali nel settecento gli scrittori cominciano invece a usare il romanzo per parlare non di mondi immaginari ma del nostro iniziano cioè a mettere al centro dei loro racconti personaggi le cui vicende le cui idee e la cui personalità non sono lontane dall'esperienza quotidiana del lettore non è un caso che in inghilterra la patria del romanzo moderno si distinguono le due forme di romanzo con due termini diversi romance e novel romance è il romanzo fantastico il romanzo cortese cavalleresco per esempio in cui si raccontano le imprese straordinarie di eroi ed eroine re e regine e in cui ci si allontana molto dalla verosimiglianza dalla credibilità per il romanzo moderno si usa invece il termine novel un termine che ha a che fare con l'idea di novelty di novità e di news di notizie la novità sta nel carattere realistico delle narrazioni dove non compaiono né fate né divinità né creature fantastiche dove la trama si organizza piuttosto intorno alla vita quotidiana di persone cui capitano le cose che capitano a tutti noi compreso un naufragio come a robinson crusoe il protagonista del romanzo di daniel defoe ma la novità sta anche nello stretto legame materiale e letterario con il giornalismo molti dei romanzi scritti in inghilterra tra il 700 e l'ottocento vengono pubblicati sui giornali oppure allegati a questi ultimi come fascicoletti a parte nel campo della narrativa assistiamo dunque nel 700 a una sorta di rivoluzione i romanzieri si lasciano alle spalle il meraviglioso il soprannaturale e fissano la loro attenzione su ciò che tutti hanno sotto gli occhi ogni giorno si apre così uno spazio sterminato che il romanzo dei tre secoli successivi si incaricherà di esplorare la realtà